Ben ritrovati con l'informazione su Arezzo TV, apriamo con l'ennesima tragedia della strada avvenuta appunto lungo le vie Aretine, in questo caso in Valdarno, a perdere la vita un ragazzo di 31 anni. Un uomo di 31 anni ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale, uno di 35 è stato trasportato all'ospedale delle Scotte di Siena. I due viaggiavano a bordo di una moto e sono usciti fuoristrada lungo la provinciale Train, località Il Borro, nel comune di Loro Ciuffen, Valdarno, Aretino. Qui passano animali selvatici, cinghiali, a priori può succedere di tutto. Secondo una prima ricostruzione i due erano usciti per fare un giro in moto ma non erano rientrati nelle rispettive abitazioni, così nella notte è scattato l'allarme e la segnalazione ai carabinieri che hanno subito avviato le ricerche. I due sono stati ritrovati al mattino successivo all'interno di una vigna. Il 31enne era ormai senza vita, probabilmente morto sul colpo. Il 35enne invece è stato trasportato in codice rosso all'ospedale delle Scotte di Siena a bordo del Pegaso. Sul posto un'ambulanza della misericordia di Montalto, i carabinieri e i vigili del fuoco. Ancora non sono note le cause dell'incidente al vaglio degli inquirenti. Due casi di febbre dengue nell'aretino in poche ore. Il primo ieri sera a Levanella, un paziente rientrato da un viaggio in America Latina, il secondo poche ore fa ad Arezzo. Ad essere colpito dalla malattia, che si manifesta di solito con febbre, mal di testa, nausea e dolori muscolari, è stato in quest'ultima circostanza un bambino di rientro da un viaggio in Centro America. Le sue condizioni non sono gravi per alcune zone della città di Arezzo, in particolare via Leone Leoni, è la zona dell'ospedale San Donato. È scattato il protocollo di disinfestazione, affinché ovviamente le zanzare che potrebbero pungere la persona malata, possano poi infettare qualcun altro. Oggi 20 settembre ricorrono i cinque anni dalla scomparsa di Piero e Filippo, i due dipendenti dell'archivio di Stato di Arezzo, che sono stati ricordati già questa mattina, ma ci saranno cinque giorni di eventi, appunto per ricordare quanto è accaduto affinché, questo è lo slogan, non accada più. Vorremmo veramente che non accadessero più queste cose, però è vero, non vogliamo che sia una frase così fatta, perché tutti noi lo diciamo come se fosse una frase fatta. Bisogna adoperarsi perché non succeda più. Era il 20 settembre 2018, Piero Bruni e Filippo Bagni persero la vita nell'archivio di Stato di Arezzo, uccisi dal gas Argon utilizzato nel sistema antincendio. Cinque anni dopo sono state organizzate cinque giornate di incontri, proprio per riflettere su quanto è accaduto affinché non succeda più. Era mattina presto, due impiegati udirono l'allarme antincendio e accorsero a verificare cosa stesse accadendo. Filippo Bagni fu il primo a scendere le scale che portavano al semi interrato dove si trovava l'impianto antincendio. Piero Bruni lo seguì poi la morte. Si verificò una fuoriuscita anomala di gas Argon, in colore, in odore, che va a sostituirsi all'ossigeno soffocando eventuali incendi, ma proprio questa caratteristica fu letale per i due archivisti. All'inizio sei ubriacato dalla disgrazia e neanche ti rendi conto, poi ogni anno che passa hai più la consapevolezza che queste persone non ci sono più, non tornano, le vedi nelle cose di tutti i giorni che ti mancano e quindi il dolore non diminuisce. Filippo è una persona molto operativa, estremamente operativa, quindi se è accaduto quello che è accaduto è proprio perché lui si è impegnato in un qualcosa per il quale però verosimilmente non era stato forse correttamente informato. A cinque anni di distanza sono state pensate cinque giornate di iniziative nei musei statali aretini e per l'archivio di Stato di Arezzo potrebbe profilarsi una soluzione diversa per difendere i preziosi documenti. Noi qui non faremo un deposito a gas, faremo un deposito ad acqua nebulizzata. Io ho dedicato una vita alla conservazione della documentazione, alla gestione della documentazione archivistica e la mia passione fin da quando ero molto giovane, ciò nonostante penso che la vita umana venga prima. Brutta disavventura per tre turisti tedeschi salvati dai vigili del fuoco del comando di Arezzo ieri sera. I tre si erano persi in Pratomagno intorno alle 20, non trovando più la strada per il rientro, hanno attivato i soccorsi. La squadra di Bibiena, seguendo le coordinate indicate dalla sala operativa, li ha raggiunti dopo circa un'ora in una zona piuttosto imperbia in località Gello Biscardo. I turisti sono stati poi riportati in salvo e ovviamente affidati al personale del 118. Una vicenda davvero orribile la ricorderete quella di Sandrelli, un artista cortonese che in questo caso a Roma lungo il grande raccordo anulare fu vittima di un incidente. La sua auto prese fuoco e lui morì dopo poco in ospedale per le gravi ferite riportate. I passanti però anziché prestare soccorso fecero dei video e uno in particolare è stato rintracciato dagli inquirenti. Per lui adesso l'accusa è di omissione di soccorso. Omissione di soccorso. Questa l'accusa formalizzata dalla Procura di Roma nei confronti dell'autista che filmò Francesco Sandrelli avvolto dalle fiamme sul grande raccordo anulare tra l'indifferenza dei passanti. Era il 6 febbraio 2023 quando l'auto del pittore cortonese si incendiò all'altezza di Casal del Marmo. Sandrelli riuscì ad accostare lungo la corsia d'emergenza e poi scese cercando disperatamente di salvarsi ma le fiamme gli avevano già avvolto le gambe e il giubbotto. Morì in ospedale dopo quasi due mesi di agonia. Subito dopo la morte la Procura di Roma aprì un fascicolo. Le indagini portarono ad individuare l'autore del video che era stato inviato anche alla pagina Welcome to Favelas. L'autista non prestò infatti soccorso all'uomo, filmò la scena registrando anche un commento in cui lo derideva. Fu identificato grazie ad un commento pubblicato e poi cancellato sui social, fu così iscritto nel registro degli indagati. La Procura di Roma adesso ha concluso le indagini. La PM Silvia Sereni ha formalizzato l'accusa nei suoi confronti. L'autista potrebbe andare incontro ad un processo. Cittadini e associazioni che frequentano il parco di Villa Severi ad Arezzo con una raccolta firme e un documento manifestano la loro amarezza e il risentimento riguardo lo stato di manutenzione del parco e degli immobili che vi insistono. Frutto della donazione a fine anni 50 proprio di Francesco Severi all'ospedale di Arezzo, allora Santa Maria sopra i ponti, ricordano appunto in un comunicato tutto il parco è inserito in una delle più belle zone della città che però appunto versa in uno stato di degrado. I cittadini adesso chiedono di effettuare agli enti preposti, in particolar modo comune e provincia, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che permettano di mantenere questo bene comune e ovviamente di metterlo a disposizione appunto di cittadini e associazioni. C'è anche una forte preoccupazione espressa per il bando prospettato dal comune di Arezzo che potrebbe dare in concessione ad un privato il parcheggio sterrato, il campo da calcio e quello da basket, proprio per questo è stato chiesto appunto un incontro pubblico alle istituzioni. Adesso invece parliamo della scrittrice Grey Zone che questa mattina ha incontrato tanti studenti presso l'impianto di smaltimento rifiuti di San Zeno. Marie Curie era una grande scienziata, ha vinto addirittura due premi Nobel. Sei donne che hanno cambiato il mondo, la storia di sei scienziate per raccontare il contributo delle donne alla storia dell'umanità e al progresso. A raccontarle Gabriella Greison negli spazi della centrale di Aiza Impianti di San Zeno agli studenti aretini. Inizia a immaginare come si muovono gli atomi semplicemente guardando i bambini nel parco che giocano. Io do la possibilità a tutti di medesimarsi nelle storie dei grandi della scienza, dunque per loro sentir parlare di Marie Curie, di Einstein, di Heisenberg, sono nomi che anche loro hanno adesso facilità nel sapere chi sono. Schrödinger per il suo famoso gatto. Ecco, i miei fisici del ventesimo secolo li porto ovunque con me e anche tra i ragazzi. Scienziata, scrittrice e divulgatrice, spesso definita come la rockstar della fisica, ha accompagnato oltre mille bambini e ragazzi delle scuole aretine in un percorso divulgativo e laboratoriale, con un monologo tratto dal suo libro Sei donne che hanno cambiato il mondo. Racconto le donne della scienza perché innanzitutto io sono una donna e perché il loro percorso è stato difficile nel corso degli anni. Le donne è stato impedito di progredire nelle facoltà scientifiche, non è che hanno un cervello diverso dagli altri. Rita Levi Montalcini diceva, il cervello degli uomini e quello delle donne sono uguali, il resto sono scemenze. E invece in tanti hanno fatto credere che le donne sono più propense ad occuparsi di altre cose, guardare i figli, curare la famiglia, i malati, non è così. Un appuntamento promosso all'interno del progetto Donne in Scienza. L'obiettivo è vincere il muro di resistenza che le bambine, poi le ragazzine, poi le donne incontrano se fanno scelte orientate verso le discipline scientifiche. Noi crediamo che specialmente in alcune comunità di genitori ci sia proprio bisogno di abbatterlo, questo muro, perché ci sono tante energie e tante intelligenze da liberare. Un'iniziativa che ha visto la partecipazione di Zero Spreco Edu. L'impianto di San Zeno, questa centrale di recupero, sta diventando anche un polo didattico e scientifico per fare divulgazione di tutte quelle materie che effettivamente diventano sempre più importanti, quindi le materie scientifiche e matematiche. E questo polo, così facendo, va a restituire sotto forma anche di cultura e di informazione e di formazione quello che chiaramente con il suo peso toglie per la sua presenza. E l'incontro con la Grey Zone era anche in calendario per alti scaffali. Facciamo allora un piccolo passo indietro con l'appuntamento precedente, quello con Federico Rampini, dal titolo Africa dove si gioca il nostro futuro. I discorsi sull'Africa, le rappresentazioni di questo continente sono monopolizzate per lo più da noi occidentali. E in particolare a parlare di Africa sono soprattutto filantropi, ONG umanitarie e il risultato di questo è una prevalenza dell'afropessimismo. La speranza africana è il suo ultimo libro, l'Africa, un continente di cui ha voluto parlare in senso opposto alla narrazione prevalente. Federico Rampini, giornalista, scrittore, saggista e editorialista, è stato l'ospite del secondo appuntamento di alti scaffali, da cui ha lanciato in anteprima nazionale la sua ultima fatica letteraria. Il mio libro La speranza africana ha un sottotitolo che è la terra del futuro concupita, cioè desiderata da tutti, incompresa perché ci sono troppi pregiudizi sull'Africa e sorprendente. E credo che sia un libro che sorprenderà i lettori italiani che sono abituati ad avere dell'Africa una visione stereotipata. L'Africa è sinonimo di tragedia, sempre e comunque. Le buone notizie non interessano, si vogliono sentire solo quelle catastrofiche, allarmistiche, apocalittiche. Anche sulle migrazioni ci sono delle visioni apocalittiche in Italia che sono del tutto infondate. Continuare a immaginare degli esodi biblici dall'Africa fa parte della nostra sindrome dell'apocalisse. Detto questo, le migrazioni naturalmente ci sono e si possono contrastare creando più opportunità in Africa. È vero che è una terra molto ricca e per questo abbiamo bisogno di investire in Africa anziché mandare aiuti umanitari. A conclusione del dibattito, come sempre, spazio agli avanzi di Balera. Noi avanzi di Balera, ad esempio, fondatori dell'Accademia del Colesterolo, organizziamo da anni, transi e ceni in solidarietà per aiutare chi non ha le rifame. E più si mangia e più gli aiutiamo, a volte fino a scoppiare. Un impegno gravoso che affrontiamo con l'aiuto di Amadi, tanta citrosolina e tisana lente. Una cena di beneficenza ad Arezzo organizzata dall'Associazione Senza Veli sulla Lingua il prossimo 23 settembre alle 20.30. La cena si terrà in località Ponte alla Chiazza presso l'Associazione Polisportiva Stella Azzurra, alla quale potete rivolgervi per prenotare appunto un posto. Il ricavato sarà destinato proprio all'Associazione Senza Veli sulla Lingua che si impegna da sempre contro la violenza sulle donne. E con il prossimo servizio invece parliamo di Zenzero Fest. È stato Pier Giorgio Pulixi uno dei più importanti autori noir presente in pianta stabile nella top 10 della narrativa italiana ad aprire l'edizione 2023 di Zenzero Fest. Pulixi nel giardino pensile del Palazzo della Provincia ha presentato il suo ultimo thriller fresco di stampa, Stella di Mare. Racconta l'omicidio di una ragazzina di 17 anni, Stella, questo era il suo nome, dalla bellezza straordinaria, una bellezza sovrannaturale quasi, una Elena dei nostri tempi. Questa ragazzina veniva da un quartiere molto difficile che si chiama Sant'Elia, un quartiere popolare di Cagliari. Ed è un romanzo che parla di periferia, è un romanzo che parla di come il nostro paese ha smarrito la propria anima nelle periferie. Spazio anche al cinema con Stefano Veneruso che ha ricordato uno degli artisti più amati a 70 anni dalla sua nascita, Massimo Troisi. Regista, sceneggiatore, produttore nonché nipote dell'amatissimo attore napoletano, ha presentato ad Arezzo Massimo Troisi il mio verbo preferito è evitare. È una frase che lui diceva spesso per evitare proprio le discussioni inutili, le tensioni, le cose e quindi mi sembrava giusto, la sento come avvicinarlo alle persone che l'hanno conosciuto o comunque lo conosceranno. A chiudere questa prima parte del festival a letterario l'incontro con Emanuela Fontana, autrice della correttrice La storia di Emilia Luti, la giovane bambinaia fiorentina che lavorò con Alessandro Manzoni alla stesura dei Promessi Sposi. Era una fiorentina che rispondeva in maniera arguta, però dalle lettere risulta anche una persona comunque umile e rispettosa. Come umile era anche Manzoni nell'affidarsi a una ragazza che in fondo non aveva particolari studi alle spalle, non era nobile ed era soprattutto una donna, ma è con lei che ha risciacquato i panni in arno. Guanciale e Montanari, Solfrizzi e Notoli, Bisio e Odspet sono alcuni dei nomi della stagione teatrale a Cortona, grandi protagonisti di questi 12 spettacoli che appunto saranno ospitati al Teatro Signorelli. Guanciale e Montanari, Solfrizzi e Natoli, Bisio ed ancora Odspetec sono solo alcuni dei nomi della stagione teatrale a Cortona. Un grande impegno, uno sforzo anche economico, ma l'abbiamo fatto in maniera convinta perché il Teatro Signorelli, anche per il nome che porta evidentemente siamo nel crew della mostra Signorelli 500, è un teatro che dà molte soddisfazioni e per questo ringrazio l'Accademia degli Arditi, tutti coloro che hanno supportato questo programma, una stagione teatrale molto importante che rende davvero orgogliosi tutti noi. 12 gli spettacoli sul palco del Signorelli, due turni per una rassegna fatta tutta di emozioni. Partiamo da una sfida importante perché abbiamo chiuso la scorsa.